Dopo il 4-1 di Cesena, il Novara prosegue la preparazione in vista della sfida in programma sabato pomeriggio al Piola contro la Juve Stabia. Settimana intensa per i ragazzi di Tesser che da qui a sabato lavoreranno praticamente tutti i giorni. Oggi in programma una riunione di approfondimento sul modello 231 e sul codice edico. Dopodiché prenderanno parte i ragazzi all'allenamento che in programma alle 16 sul campo 4 di Novarello. Proseguono la preparazione a parte Perticone, Pesce, Lepie e Piovaccare. Nella giornata di domani prenderanno la parola in conferenza stampa Agon Memeti e Lorenzo Delprete. A seguire ci sarà l'amichevole in programma alle 15 sul campo 4 di Novarello contro la formazione del Gozzano militante nel campionato di Serie D. Girone A.